Sono povero e non conviene essere poveri. Quando uso un bancomat, il bancomat mi dice... Mi dispiace, non ho spicci, buona giornata. Questa è davvero buona. Benvenuti al drone. Faccio stand-up. Quindi sei uno che fa ridere. Ci provo, ci provo. A volte penso che mi piacerebbe provare qualcos'altro. Vuoi fare stand-up? Io non so più chi sei ormai. Te ne voglio parlare. In pratica è un nuovo sketch che ho provato stasera. Generalmente nessuno parla del piacere alla prostata. E non capisco perché abbiamo aspettato così tanto. Io e il mio compagno abbiamo addirittura fatto un viaggio in Thailandia prima di fare un giro nel suo canale. Il club è tuo, no? Quindi puoi esibirti stasera. Devo dare spazio anche agli altri. Abbiamo 1397 euro al mese per tutti e due per vivere. Papà, non so come possiamo fare. Facciamoci una canna. Ci rimetto soldi con te. Non sei più redditizio, Blink. Non stai bene. Ti rendi conto che così non va? Che succede? È la fila per il tuo spettacolo. È una magia. Cosa pensa il suo compagno di tutto questo? Mi hai sacrificato per la tua popolarità. Non ho capito come sia successo esattamente. Un giorno mi sono svegliato e voi eravate tutti più bravi di me. Tu hai un sopracciglio e la gente ride. Stamattina mi sono svegliato, mi sono guardato allo specchio e mi sono sembrato più vecchio. Ma francamente ora che vi vedo mi sento meglio. Per me far ridere le persone è una cosa straordinaria. Chi è questa bella ragazza? È sconfinata come tutto quello che ci aspetta. Ho aspettato così tanto questo momento. Ho fatto tanti di quei sacrifici. Questo è il drone. Questa è casa nostra. Questa è una cosa straordinaria. 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 Questa è una cosa straordinaria.